Ben tornati su Ciper TV oggi lunedì 25 febbraio 2019 siamo in pieno open a proposito com'è andato il vostro 19.1 siete soddisfatti? Noi abbiamo lasciato fuori il rower perché anche oggi saremo su questo strumento infatti avremo un hand wrap 20 minuti dove avremo tre kettlebell swing, tre hand release push up, tre calories row aggiungendo tre ripetizioni ad ogni round. Per oggi è tutto ci vediamo domani per un altro ruolo insieme su Ciper TV. Buona giornata